la profezia è doppia c'è la distruzione e la salvezza a voi la scelta c'è il nuovo regno e le bombe nucleari la profezia è duplice c'è una profezia per chi si comporta male che è la distruzione e c'è la profezia della nuova era se tutta l'umanità comprende questo messaggio e lo pratica la profezia della distruzione non avviene infatti le profezie dicono se se è un pronostico ma l'uomo ha il potere di cambiarlo questo pronostico voi noi ce l'abbiamo se adesso voi il vostro potere di cambiare la vostra vita è immacolato non l'avete perso avete solo paura di metterlo in pratica perché chissà cosa dirà il vicino mio marito la mia ragazza mia moglie mio cugino il mio ginecologo il mio professore cosa penserà di me il mio gatto il mio cane forse non mi ameranno più dice sparte davide in automatico il motore del non posso facci caso tu parli con una persona gli dici queste cose non è vero nulla se un folle quando gli hai rovesciata dosso 40 tir di prove e lo hai messo all'angolo e lui non ti sa dare uno straccio di risposta ma tanto io cosa ci posso fare ma che vuol dire era prima una condizione di paralisi non è vero poi non posso sempre una condizione di paralisi perché siamo abituati formatati in automatico a reagire così e io dico ma non puoi tu fare un cambiamento da la sera alla mattina ogni viaggio per lungo che sia inizia con un piccolo passo quindi inizia a sperimentare la legge fai un passetto già quello ti cambia poi un altro passetto dov'è che gesù ci dà l'incitamento a questo quando salva il ladrone il ladrone il ladrone inchiodata la croce così come cristo e quell'altro uno bestemmia gesù ma se tu sei dio tira ci gioca sia un buffone e l'altro lo difende a cristo dice ma brutto pezzo di cretino quest'uomo innocente noi siamo colpevoli noi ce la siamo meritata questa sofferenza ma lui no è un pure un innocente allora gesù dice tu oggi sarai con me in paradiso secondo la legge di causa effetto che aveva fatto quel niente aveva solo preso atto in sé del pentimento quindi cristo cosa gli ha detto bene io adesso ti faccio fare una fila di incarnazioni e tu conoscerai il paradiso quell'altro invece lo condanna quindi noi non è che dobbiamo diventare scienziati del mondo dello spirito ma se comprendiamo profondamente questo messaggio e iniziamo a metterlo in pratica con quella fermezza e forza di volontà sicuri che faremo errori non siamo perfetti davide quindi nel cammino dell'evoluzione l'errore è un fatto che dio è normale dio non tollere condanna la diabolicità cioè ripetere perseverare nell'errore con consapevolezza a danno altrui a vantaggio tuo questo condanna ma l'errore l'errore che noi facciamo per le nostre miserie quello è perdonato sono i cosiddetti peccati venial quindi se noi maturiamo profondamente nel cuore attraverso le evidenze non solo quelle che vi mostro io ma tante altre e comunque io ne mostro se è andato sul mio canale youtube sono decine e decine di ore di conferenze dove io le spiego queste cose è solo la punta dell'iceberg perché poi è tutto molto più complesso però è sufficiente la fine il messaggio è fatta del bene comprendete che una nuova società non è possibile farla se noi rimaniamo l'uomo vecchio fatti giordano bruno 500 anni fatti ci diceva c'è bisogno dell'uomo nuovo non c'è altra soluzione davide nelle nuove tecnologie né un nuovo partito politico non c'è bisogno niente abbiamo bisogno noi di rivedere la nostra vita cioè ravvedetevi questo dice rivedete la vostra vita perché fa schifo questo ci dice la vergine è un messaggio sociale non è un messaggio religioso la religione non serve a nulla anzi oggi è un danno perché ci tiene bloccati e paralizzati in schemi obsoleti che non servono a niente non c'è in quel paradiso quell'inferno quel peccato non è così quel dio non esiste questo dio vecchio barbuto con la tunica e guardone che sempre lì dice ma ce l'ha il profilatico non vede bene spostati un po è così cioè non esiste sta cosa si prendono per il sedere poi la loro vita è una nefandezza quindi dobbiamo uscire da queste logiche e diventare persone nuove persone nuove è un cammino lungo difficile e tortuoso ma decidiamo di iniziare senza colpi di testa senza follie ma iniziamo perché se non iniziamo poi cristo torna sono guai